...slogono, forse no, e poi diciamo che vorrei concludere, approfittando proprio di questa platea, per chiedere un lungo e finito applauso che vorrei appunto, mi voglio permettere di tenere a battesimo oggi, proprio per la prima volta in questa scuola, titolandolo, questo è quello che mi stavo scrivendo stamattina, titolandolo semplicemente l'applauso del ricordo, pensate quanto è bello, l'applauso del ricordo, un applauso ma non a me o ai relatori di questo incontro, ma l'applauso per onorare, non dimenticare mai, dico mai, tutti morti, semplici cittadini che si sono provati al momento sbagliato e non posso sbagliare, tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, politici, uccisi selvaggiamente per il loro impegno antimafia, ragazzi anche per loro, vi prego sentite quello che dico, anche per loro che dobbiamo tentare di sconfiggere la malavita organizzata, anche se so benissimo che la lotta sarà dura, lunga e dolorosa, quindi questo che chiamiamo oggi l'applauso del ricordo deve essere assolutamente per loro. Grazie. Grazie.